cazzo sta fanno? che cazzo sta fanno? mi sono fatto molto PLW il famoso rapper che vi lascerò qui in descrizione i suoi lavori no vabbè ma quale pubblicizzeremo il tuo ep? io lo pubblicherò sul mio instagram e dirò scaricate l'ep di LW comunque oggi siamo qui con un pack opening sempre di quelli su quel sito fantasticamente che ci fa trovare sempre i giocatori forti dove noi su fifa non li troviamo mai e niente quindi oggi andiamo subito ad aprire i pacchetti siamo ancora con il nostro balance di avevamo 1.500.000 300.000 l'abbiamo scaricato adesso abbiamo 1.200.000 partendo sempre da 1.000.000 e quindi cerchiamo di guadagnare ancora di più e finire con più di 1.200.000 anche oggi e aprire i pacchetti da 100k ovviamente ovvio grande vuol dire qualcosa anche dire tipo ovvio yes grandissimo fantastico proprio e quindi andiamo ad aprire i pacchetti grande va adesso andiamo ad aprire i pacchetti tikitin 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 seleziona basta quantità 12 no 12 così proprio si si vabbè proprio film c'è il suo nome esatte si vai vai dai 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 che cazzo è cambiata tutto sei buggato sei buggato sei buggato attenzione stupido 48.000 12.000 però siamo andati sotto arrivato io per portare il guardare eh o leee o leee vai dai ooo se siamo andati sotto quindi ne hai portato portare mi dispiace ma infatti ho fatto 67.000 ooo oddio ooo vabbè mucanjo mucanjo ci sta pure hulk eccolo lo sento è lui è lui eccolo eccolo oddio oddio merda allora sono arrivati i regali di natale dai se magna è natale l'amico tuo natale si si sono arrivati i regali di natale felice i regali del famoso felice natale possiamo andare via si allora che si fa comunque vai il pandoro vele gatti attenzione open pack eccolo qualcuno lo troveremo qualcuno lo troveremo non troveremo nessuno courtois quadrato trap toni è vero quello all'anno fa pure un vaso dei portafogli proprio è lui è quello che ti ruba il portafoglio sono da lungo con la sedia male tontento non ti spurgi in avanti oh dai ragazzo un pacchetto su uno serio uno serio uno serio i miei sal filiguetasavic sempre sotto siamo annati eh si toffiii per me è già finito qua gervigno per favore noi siamo alla di solo perchè c'è il toff ma per favore 69.000 ahhh raga una svegliata se devo dare eh infatti dai vai 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 dai oh che schifo eh porta bene un'altra volta oh giù ecco arriva e sta volta ci sei mannati sopra a merdi ti ho detto con lo spudo porta la fortuna oh guarda che abbiamo fatto quanto stiamo? 114 marchetti marchetti sta tutti i pacchetti i pacchetti tutti i pacchetti tutti i pacchetti vedi fan freestyle io sono marchchetti oh io sono marchchetti no lui lui lascia perde che ti doi sono tristi sono marchchetti 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 apri bene i pacchetti ahahah come ha detto diari il dennaz mi sono qua a giocare a fifa ah ok va bene mi stai meglio ora che lo facciamo con christian e poi c'è darmian ho scelto la rima più difficile di lan però poi lo fai con christian e poi tutti quanti faremo una sala lan che dico giocheremo a oh un nero un nero un nero un nero che palle regalo ma perchè sta in me ma c'è stocker ferro di azzo dai ecco dai ecco vai 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 eccolo lui coutinho cacacciucca in lucca con rodolfo questo mi ha fatto perdere le fredde sordi oh tanti mamma mia male male 29 mila dai questo te ti prego ti prego oh si qual è ottimo cazzo te l'ho detto che ti porta bene finalmente ma guarda 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 rondine guarda rondine guarda rondine mamma mia ma chi è le storie desi no per me come frida comunque la notizia più importante lo sai qual è? siamo andati sotto anche in questo lo so proprio però c'è Lewandowski però c'è Lewandowski vabbè Lewandowski siamo andati sotto di poco Lewandowski giusto a 2 apri o questo? oddio 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 baca 17 un titi un titi ma che cazzo ha fatto ma che ha fatto un titi pare il tram no pare il filobus ci hai presente? un titi si chiama un titi cerno eccolli lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi che merda le manchietta per questo oh 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 va bene va bene ci può fare 161 mila per la squadra di carbone non c'è niente 161 mila ci siamo andati sopra va bene va bene va bene ci ricupera si comincia a risarire la china o la china ma è vero c'ha ragione ci avevo mai pensato come scoprire il gelato è un gelato è un gelato si allunga l'auto oddio oddio 555 oddio 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 c***o c***o oddio 55mila 439mila sanchez all'ultimo pacchetto è sempre così se lo sto a di oddio ho male la gola non stavano male di ginocchio sono cascato per terra ahhh scusate eh che c***o che ci hanno avuto all'ultimo pacchetto non è c***o va bene ne apriamo 3 vai uno per uno uno per uno eccolo eccolo oddio 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 quant'è eh 182 su chi ha di millu eccolo dai dai che si guadagna eccolo modric ericsson lo santos allora ragazzi se questo video vi è piaciuto e volete altri fa commenting su questo sito lasciamo 5mila like questo fa commenting ci è andato bene alla fine anche se stava andando molto male noi ci stavamo dispazientendo stavo dicendo eh come si dice? spazientendo spazientendo poi il sito ha capito che doveva darci qualche giocatore e ce l'ha dato vuoi rotta pure ci siamo è un video sicuramente del livello culturale fantastico i tempi dei migliori erano spiega ma che poeta e beh giustamente tu riscrivi le canzoni mi raccomando mi raccomando download del mixtape download 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 del mixtape download del mixtape download 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 del mixtape la legge dei numeri un milkshake la legge dei numeri posso parlare ma guarda che tu hai capito male non è un mixtape è un milkshake cioè io non ho fatto un mixtape ho fatto un milkshake ma perchè è lavorare al mac non davvero? ah davvero? ah scusate raga niente andate da seguire al mac si vabbè comunque niente lui non può essere al consolizzato però lui c'è uno che vuole vuole fare il rapper fallito da grande quindi ci prova no no cioè sicuramente la scena per fallito non so fare rapper il sottopadrone il sottopadrone il sottopadrone si vabbè cazzo sta parlando io voglio fare il sottop no io lo ho sempre di tu ma io voglio fare il sottop vuole fare il sottop vuole fare il sottop vuole fare il sottopadrone vuole fare il sottopadrone no io voglio affittare il papa cioè per la festa no perchè se tu affitti il papa o comunque lo compri vuoi fare quello che vuole si vabbè comprarlo è un casino non c'è non voglio le sordi si può fare si può fare 200g si può fare penso si avvicinavi il pack opening col papa e beh te immagini lui ma porco che oh cazzo no è vero si si vabbè raga il video è finito lasciate like e passate al prossimo pack opening in descrizione c'è il nostro pack opening cioè c'è il sito del pack opening si bella ragazzi ciao bella